Sai quali sono i rischi che si incorrono se non ingaggi un gruppo legalmente costituito? Ciao, sono Giovanni e sono il responsabile Senza Tempo Live, team di intrattenimento per soli matrimoni con sede a Cosenza. Resta con me e ti spiego come intendiamo noi la musica per il tuo matrimonio. Cosa facciamo noi di Senza Tempo Live per il tuo matrimonio rispetto a tutti gli altri gruppi musicali? Non siamo un gruppo ma siamo un team di persone e facciamo musica dal vivo e animazione elegante ma divertente per coinvolgere tutti gli ospiti che sono presenti al tuo matrimonio in modo distinto e garbato. Se decidi di approfondire insieme a noi ti spieghiamo quali sono i rischi da evitare per organizzare al meglio il tuo matrimonio. Adesso quello che vuoi fare è semplice. Se vuoi approfondire queste cose hai l'opportunità finalmente di ricevere gratuitamente una guida pratica veloce dove ti dico i problemi che possono esserci al tuo matrimonio e quali possono essere le possibili soluzioni. Riassumendo cosa devi fare? Clicca sul link, ti scarichi la guida, ti arriva direttamente sulla tua posta elettronica e ti assegno subito un buono sconto del 40%. Ciao è stato un piacere aiutarti e ti aspetto in consulenza per darti gli elementi giusti in modo da scegliere in autonomia il giusto team per il tuo matrimonio. Ciao!